bustina moleskin tedesca tessuto moleskin ex dotazione germania ovest il robusto tessuto di cotone troviamo quattro fori di areazione la bustina è tutta un solo corso non è apribile per cui è un monopezzo è cucita in più parti foderata internamente all'interno troviamo la data di produzione spesso e volentieri la fabbrica e la taglia ovviamente queste a che vedete questi timbri sono timbri di dismissione ottimo materiale solida robusta indistruttibile davanti troviamo il logo della repubblica federale tedesca l'ex repubblica federale tedesca con il cucito con i caratteristici colori